Buongiorno a tutti, è Mondarello Memeriello e io sono... Questo è quello che direi se volessi fare una intro di benvenuto a tutti a Mondarello Memeriello in giapponese Se fossimo in Giappone Ma qua siamo su Mondarello Memeriello Un posto terribile che non guarda in faccia a nessuno Popolato da esseri viventi terribili Che potrebbero porre fine alla mia carriera da hardcore gamer in un solo secondo Quindi vi dico ciao a tutti bonzi bonzi e benvenuti in un nuovo episodio di questo coso qui molto bello Oggi mi so fatto il piccone di Pretes perché devo andare in Minieras A scavare del ferro perché mi devo fare l'armatura Perché se no mi fanno fuori mostri Mi devo fare lo scudo per difendermi da loro Ok Ho cambiato idea Aspettate un attimo scusate Ok Bene Caricati sto mezzo cuore Ci sarei schiattato se no Come va? Tutto bene? Ok Pure io Adesso a quanto pare Eppure lo sgheletro ci sta Nooo Non posso fare qua sta caverna Mi fate scavare un po' di ferro Dai mi serve un lingottino Ho beccato l'unico villaggio che non c'aveva niente E non si trova sulle pareti Un lingottino di ferro Chiedo uno so Magari qua sotto Qua ho sentito uno zombie Uno zombie è più facile da combattere Eh va bene Tiè 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 Oh grazie Piccone è bello Ok Adesso prendo questo ferro E lo vado su Non di nuovo Ma dai Ma che cavolo Mi fate giocare un poco Per favore Mamma mia No lo scudo serve immediatamente Immediatamente serve lo scudo come minimo E il corazzino Subito Subitissimo In diamante lo dovrei fare Adesso all'istante Mi posso cittare i diamanti per favore No perché non c'ho al mondo che si può cittare Nemmeno perché questo è hardcore Quindi non posso cambiare proprio niente Per la miseria Ok ci abbiamo il mio ferro Adesso posso combattere gli scheletri Mi vado a fare un attimo Il coso Come è chiamato Quello che si metta all'altra mano Il scudo Per difendermi da queste creature middili E moleste E terribili E porca miseria Ma quello è un blocco d'oro? Ah no è lana gialla Mamma mi ce l'hai quasi fatto credere Ma che ci sta qua? Ah questa è la casa del tiro con l'arco Che non serve a niente Ho girato un po' il villaggio intanto E tipo ho chiuso Sì qua stanno tutti a fa fel Tu che fai? Ha un altro chierico Ce ne stanno due quindi O è quello che mi è scappato Perché l'avevo chiuso qua dentro E non vorrei fosse scappato Sto signo No sta qua Perché il chierico è importantissimo La carne marcia si fa super facile Se non ti fanno esplodere i creepies E Ce la puoi vendere Ti dà gli smeraldelli Gli smeraldelli sono roba buona Salve Come posso io? Ah questo è quello che penso Che questa sia ancora casa sua Beh io lo faccio crede Intanto prendo anche un po' di legname Per il scudo Grazie Legno Posso prenderlo Molto gentile Grazie mille Ok quindi Secondo episodio Molto animato Prima Ondata di miniera Molto simpatica Con un creeper Che mi esplode in faccia Molto bello Dammi tutto questo legno 1,2,3,4,5,6 Ecco qua Uno scudino Sì Com'era così? No era così? No era così? No Com'è lo scudo? Come si fa lo scudo? Ah così Eccolo qua Shield F Ecco qua Adesso posso pararmi Dalle frecce degli scheletri Oliviero Tu cosa ne dici Di questo scudo? Ti piace? No? Non ti piace? Eh Mi ha dato un'accettata E ha fatto La faccina contenta Perché? Che è successo? Strano Oliviero Mi posso fare la chest Split Mi sa eh Se si finisce di bollisto ferro Magari Un chestplettino Non mi dico che mi sprechi pure l'altro carbone No? Perfetto Grazie No Non la posso fare la chestplett Però posso fare I pantaloni Ok Oppure posso fare Un elmo Facciamo i pantaloni Ma Più cinque Forse sono una cosa Che mi dà un po' di più Ma Non lo so Sta arrivando la notte Dormo Perché non voglio proprio Che arrivino dei mostri Qui nel villaggio Di questa povera gente Che mi sta accampando Crescendo E passendo Fammi magna Che così mi si ricarica Quel mezzo cuore Che abbiamo visto È molto importante A quanto pare Grazie signor Creeper Di prima Che lo ricorderò Molto questo suo gesto Questo rimane qua dentro Un pazzo Cioè A me è arrivato qualcosa Ma schiappato Ma distrutto Ma qua Ste scale Forse va meglio Pronta fuga Ok Poi scaviamo un po' di qua Il carbone Lo prendo Quando starò più in sicurezza Come ho fatto a mettere Sta torcia qua E come ho fatto a mettere Queste di torce Ma Mi si collega Alla grotta di qua A questo posto Ma che schifo Di posto Dai Che brutto Qua è passato Un enderman Ha lasciato un blocco Wow Che grande caverna Da un lato è positivo Che la caverna Faccia così schifo Così Non c'ho La carica Di esplorare le caverne E metto a fare Il mio classico Mining Dritto per dritto Dove praticamente I mob Non li incontri mai Però Una cavernina Così sarebbe Più semplice Da gestire Per trovare Del ferro Eccolo arriva Questo appia fuoco Qua sotto Oh ma là Guarda Ma puoi non darmi fuoco Per favore Che questo è hardcore Oh mazza Però mi curavo un sacco Cioè Dovrebbe essere hardcore Ma mi ha curato un sacco Sto panino Che mi sono mangiato prima Però vabbè Diciamo che mo Mi sto a carica addosso Tutte le cose possibili Che mi possono Oh si Grazie ferro Che mi possono Buttare via Dalla serie Tipo I creeper esplosi in faccia Lo zombie che mi da fuoco Gli scheletri Così che poi In futuro Non possano Distruggermi E io faccio così Per indurirmi No Per far Il callo Come la chitarra Che la suoni Prima ti fa male Poi suona Che ne so 20 minuti Se sei Uno forte Come a me Poi puoi suona 40 Poi un'ora Poi due Però sempre Ti si deve fare il callo Perché se no Te fanno male le dite E non so di niente Questa è una lezione di vita Cari miei È una lezione di vita Perché il creeper Che ti schioppa in faccia Nel secondo episodio È una manna dal cielo Perché lui ti schiappa in faccia Non ti ammazza Ma ti lascia con mezzo cuore Quindi quello che non ti uccide Fortifica E io mo' so fortissimo So fortificato Un sacco Su Una montagna Una roccia Adesso mi prendo Anche questo ferro Dai c'è l'altro Sì che bello Vediamo se ci sta Quando trovo tanto ferro Io sono tanto contento Che me lo pappò Tutto Quanto E mi faccio L'arma Ma tu dove vai Ma tu dove stai Guardate Che schifo di posto Che ho trovato Qua però Si potrebbe scavare In fondo E inizia un'ottima carriera Di strip mining Però sarebbe un po' Lontano da Da casa Io preferisco Cioè Non è vero Ho trovato il ferro Va bene tutto Questo qua Sarà la mia miniera Scaverò qui Per sempre Andrò fino in fondo Fino a livello del diamante E pure carbone Ma Come sta proprio a chiedere Di essere scavato Questo posto Fai mettere una rocetta Ok Ok Io dovrei essere al sicuro Qui Per scavare queste cose Quindi lo farò In tutta fretta E poi tornerò da voi Se succede qualcosa Di fenomenale Ok Stiamo Tipo ad altezza 15 E qua sotto C'è Della zuzzaria Che non voglio toccare Che sarebbe Della lava E Ero quasi contento Perché stava Avvenì tutto Senza intoppi Cioè Stavo a fare La mia scaletta Bellina Bellina Quasi arrivata A livello 12 E invece qua Ho dovuto trovare La grotta Che non so A cosa mi porta E io Farò così La musichetta Della grotta Sta Ecco qua Così E qua chiudo E mi dedico A questa zona Ok Perché Siamo quasi Arrivati C'è della lava C'è della ricchezza Del ferro Che per me Ora è ricchezza Quindi sono al sicuro Qui Mi scavo il ferro Con calma Ecco qua Molto buono Questo ferro qui E anche Il lapislazzo Lo volendo Potrei prendere Perché si prende Col piccone di ferro Però Ora come ora Non mi serve Quindi Lasciamolo qua In questo suo posto Adorato Ecco qua Ecco qua Vola 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 Ora Quello che Piace fare a me Qui È arrivare A livello 12 Che sarebbe Praticamente Odosta Stalava Se non sbaglio Se non questo Aspetta È questo Il livello 12 Perché Io Là stavo a 15 14 13 12 È questo qui Potrei fare Strip mining Da qui Che è questa mia Tecnica segreta Insegnatami Da un maestro Minatore Di un tempo Conosciuto Su un server Lontano Oramai Credo perduto Dimenticato Però Conobili Il maestro M4 Kron Era questo Il suo nome Ah In quella città Sperduta Lui mi insegnò I segreti Della miniera Bei tempi Quelli Bei tempi Bellissimi tempi Una delle prime volte Nelle quali c'avevo Minecraft Originale Ah Vissuto appieno Vissuto appieno Molto bello Ok Però comunque La tecnica Ve la spiego un po' Praticamente Si scapa Ve l'ho spiegata Già varie volte Però per i nuovi Per i posteri Per chi non c'era E per chi Ci sarà in futuro Si fa così Si scava dritto Per dritto Ma dritto Per dritto Bene Poi qua stiamo pure In una zona un po' brutta Io vi consiglio sempre Di farlo a livello 12 Mi metto pure le torcette Così Ci vedete Non vi ciecate gli occhi Su Telefonino Ecco qua Torcette Grazie Ecco qua Poi una volta Fatto questo Si può far lungo Quanto vi pare Questo corridoio Però Io per motivi Di Explication Lo farò così Ecco Inizierò da Qua Scavo Faccio così Fino a che arriva Il piccone Ecco Qua vedete Il piccone è arrivato là E lo faccio E lo faccio anche di qua Qua probabilmente Troverò aperto Però non fa niente Poi salto Due blocchi Uno Due E lo faccio di qua E scavo di qua Così praticamente Voi controllate Sia questi Sia questi Che questi qua sotto Vi perdete Sti due Però Non vi frega Di quei due Quei due Non li guarda mai nessuno Quindi non li guarderemo Nemmeno noi Poi trovate la terra Magari vi sarete fatti Una bella pala Io non ce l'ho Quindi scaverò Con le mie bistecche Che si insaporiscono Così Poi fate un'altra volta così E scavate di nuovo Così piano piano Vedete Tac Tac Saltate sempre due E prima o poi Uscirà Un bel diamanto Che vi aspetta Che non potrete scavare Ecco vedete Dell'oro L'oro è un buon segno Mi piace l'oro L'oro è simbolo Di opulenza Di richiume Di ricchezza Di gustosità Però non lo possiamo prendere Ecco qua sta Quella grotta brutta Che Il nostro continuo Che noi esploreremo In futuro Oh redstone Ottimo Un ottimo segno Poi qua c'è Della terra La terra è molto buona Vedete L'ha scavata a pugni Perché non c'è la pala E non c'è niente Poi girate di qua Dove c'era la redstone Prima Cosa c'è qui? Niente C'è uno zombie Che fa Ma a noi non ci interessa Forse me lo dovrei fare la pala Visto che qua è pieno di terra Però no Attenzione Diamante? No Di qua invece Questo lo vedo un posto Dove potrebbe stare un bel diamante Perché io li sento Con i miei sensi di ragno Ma non c'è Questo qua potrebbe essere un posto Dove ci dovrebbe essere del diamante Perché li sento Con i miei sensi di ragno Ma non c'è Poi Ovviamente Fatela quanto Quanto lunga vi pare Io L'ho fatta così Solo per farvi spiegare Perché poi me la continuo io Cioè non è che la faccio solo così E mi fermo No Questo è un ottimo metodo Per cercare la ricchezza diamante Però Non è buona Tipo per il ferro Perché il ferro Stava tanto Un po' più su Il carbone pure Quindi Questi Non ce li trovate tanto bene Qua sotto Qua se volete trovare i diamanti Vi fate un paio di sticoritoie Ecco Io mo ne faccio giusto un altro Sempre per motivi di dimostrazione Vediamo un po' Mmm Mannaggia Che sfiga Eh seppure è rotto il piccone Vabbè Significa che mi fermerò qua Per scavare Eh che peccato Che peccato Allora Io direi che Me ne risalgo sopra Sperando che non sia noce Perché se è noce So Cavoletti Fritti Però guardate Sta cosa è piena di carbone Ho trovato un sacco di carbone Io torno su E me la svigno Verso la casa Quella che ho rubato Quel villager Perché così Da poter dormire Qua devo mettere Forza delle scale Perché da tutte Ste capocciate Mamma mia Sei frustrante Io non so Chi è che Ci starà sicuramente Qualche Marrano Che si fa la miniera così E non ci mette le scale E sappiate che io vi odio E fuori è notte Questa era la nostra uscita Di prima Ah no Da di qua esco Proprio vicino al villaggio Però Vero? Vero? Ok Qua devo fa No signore Ah ah Te piacessi Ah E dai Come mai fatta No mi rificco dentro Ciao Luce del giorno Ci vediamo Un'altra volta Mamma mia Combattimento all'ultimo sangue Proprio alla fine Dell'episodio Mamma mia Chi vincerà? Metal mavio Perché è fortissimo Adesso mi rificco Qua dentro Nelle profondità Delle grotte E aspetterò la notte Ecco così Tac 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 E così Metto una torcina Ciao torcina Ecco Mangio un bel panino E ciao a tutti Buonanotte Buona visione Ciao Mi sono ricordato Adesso che non c'ho Il piccone Quindi uscita qua Sarà veramente Faticoso Grazie a tutti